Musica Ciao qui su YouTube, qui con voi e Sciale Vummo Oggi ragazzi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi siamo nella trasferta più importante Diciamo la partita più bella del campionato La partita più bella, la partita più significativa, la partita più importante Perché ci basta un punto per vincere lo scudetto e oggi siamo ad Udine, alla Dash Arena Siamo qui con Chef Franco e siamo anche qui Quest'anno tantissime emozioni, c'è tanto pubblico napoletano, tanti colori azzurri Tante emozioni, tante gioie e siamo per vivere, finalmente una grande gioia Quella che ci è mancata sabato 29 contro la Sardegna Italia Però la potremmo vivere oggi fuori casa per poi festeggiare in casa Allora, un po' ti dico una cosa Questa sarà la prima di un lungo ciclo Ah, lo ha detto Ricordate questi paroli Io non vedo l'ora di festeggiare qui Non oso immaginare quello che può succedere Io per questo super video, per il video vi chiedo tantissimi Fate voi, fate voi con i mi piace, iscrivetevi al canale Vedete la nostra gioia Commentate qui sotto con la vostra gioia per questo scudetto che manca da tanti anni Noi prima di entrare, ma ma senti, ha chiamato, ha chiamato lo Pinguino Nel suo gruppo Telegram, lo sapete che il Pinguino ci ha dato tanta fortuna in questo campionato E oggi Sto scherzando Siamo bene Cristian Cristian ti vogliamo bene Oggi ha dato la chiamata del miglior marcatore d'Europa Della serie A Victor Oseman Oggi segna contro l'Udinese E lui l'ha dato E io l'ho giocato Ah, stiamo con l'Useman E allucammo attuando insieme Niente, ci siamo Siamo dentro allo stadio della Sarina Guarda là Lì c'è l'entrata Chef, abbiamo preso un po' di cose qui Un po' di cose da mangiare Un po' di formaggio per crescere le unghie Un po' di pomodori Mozzarella Prosciutto Birra Per riscaldarci Per il match Ringraziamo sempre e comunque Crypto.com per averci invitato Penso che questa sia una delle entrate Voi già avete visto C'è l'entrata Vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Ci metti un po' di form Dai Dai Spettacolo Ma senza parole Grande viste Grande viste Grande viste Giovatori Ha un passo da noi Che spettacolo Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Eccoci il mano sulla porta Simeone Ciolito 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 Vieni, vieni Vieni Dai ragazzi ci andiamo Vai Victor Non potevamo mancare nell'appuntamento della storia Ha avuto fino a ieri la febbre ma io dovevo essere qui, noi dovevamo stare qui Bella storia È iniziata Udinese Napoli dai ragazzi Ha non prescato, ci stai inna a fare Ho avuto uno Un gol spettacolare Un gol spettacolare Sciontini 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 Senti! 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 Rigore! Rigore! È rigore! Vallo a rivedere, è rigore! Guardami! Senti! Caparato, caparato! Caparato questo! Coricione! Così! Così! Senti! Ci sono tanti! 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 l'occasione per i navi ragazzi ho sman di testa sul cross di elmas la palla esce di lunga vicini a pareggio non mi sta accorto no non mi vuole il pallone no ma che ci ha messo da dall'improvviso troppo 1 a 0 per Udinese finisce il primo tempo ovviamente a noi serve un pareggio stiamo cercando male noi che stanno contro un'altra arbitro in qua tutti tutti dai vediamo di riprenderla dai ragazzi ragazzi è iniziato il secondo tempo Udinese e Napoli speriamo bene sì 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 u Andiamo, Víctor, sempre l'Ubis, andiamo, andiamo, vai Víctor, andiamo, andiamo, Víctor, 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 Víctor Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, mi ero malato in questi giorni, ma dovevo venire qua, e la mia festeggia qua, non potevo mancare. Grazie a tutti. Siamo campioni d'Italia, campioni d'Italia, siamo campioni d'Italia, campioni d'Italia Stanno facendo di tutto e di più, siamo campioni d'Italia, siamo campioni d'Italia Cosa sta succedendo, c'è invasione ragazzi, c'è un'invasione pazzesca, faccio favore E' bello, c'è invasione di campo, giocatori scortati, non si capisce niente I campioni d'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi I campioni d'Italia siamo noi, siamo noi Quando ce lo meritiamo, come squadra, come popolo, è una rivincita per tutto e tutti E' una rivincita per tutto e tutti, noi non entriamo in campo perché è giusto, ma non si capisce nulla, non si capisce nulla Sì, si, si, siamo noi, siamo noi, i campioni d'Italia siamo noi La gioia di questo si sta trasformando in una scena L'hanno attaccato quelli dell'Udinese, hanno cominciato ad attaccare noi Abbiamo fatto invasione, stavamo esultando, tutti hanno fatto invasione, tutti i tifosi E chi è l'Udinese, i 15 tifosi dell'Udinese, a noi non frega Ma io mamma festeggiato, è già da non bere scato perché lì si mette più forte E l'abbiamo dimostrato, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia Purtroppo non ci vogliono fare, ma noi siamo campioni d'Italia, siamo campioni d'Italia Ciao e forza Napoli sempre, chi ne ha morti, forza Napoli a vita Ciao